Io credo che non sia difficile, è impossibile, credo che è una cosa veramente pazzesca che non si ripeterà mai più, credo, nella storia, soprattutto in Italia, dove è veramente difficile vincere i campionati. Noi abbiamo fatto, abbiamo vinto e rivinto con grandissimi giocatori, grandissimi allenatori, con la voglia della vittoria, con la nostra mentalità juventina. Complimenti veramente a tutta la società perché è veramente dura e vincere tutti questi trofei che si sono vinti è una cosa pazzesca.